Furto con spaccata all'interno del supermercato S. Lunga nel mirino dei ladri, non la merce esposta negli scaffali, ma il bancomat. Erano le 3.20 del mattino quando i ladri hanno prima rubato un'auto parcheggiata nella zona per usarla come ariete per sfondare la parete del bar Atlantic. Una volta entrati all'interno della galleria del supermercato si sono diretti nella zona dove si trova il bancomat e con un sistema rudimentale, affermano le forze dell'ordine, lo hanno fatto saltare in aria. Un boato enorme avvertito distintamente anche dai residenti della zona. Poi, entrati in possesso del denaro, sono scappati a bordo di un'altra auto che li aspettava fuori con il motore acceso. L'auto usata per la spaccata è stata abbandonata nel parcheggio con il vetro dell'unotto posteriore in frantumi. Tutto si è svolto in pochi minuti. Sul posto si sono portate le volanti della questura di Arezzo e la polizia scientifica per i rilievi. Il supermercato ha ritardato di poco l'apertura mattutina prevista per le 7.30, ma i clienti hanno dovuto fare accesso da un ingresso posteriore. L'ingresso principale è stato riaperto solo intorno alle 10.30. Sul caso indaga la squadra mobile di Arezzo, diretta da Sergio Leo, a disposizione degli inquirenti, anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sul bottino sono in corso ancora le verifiche per quantificarne l'entità. Grazie a tutti.